Una bambina di 7 anni è stata rapita fuori dalla scuola. Kaede Arimaya è stata abusata, uccisa, e il suo corpo è stato abbandonato sul ciglio di una strada di campagna. Il killer è un certo Kaoru Kobayashi, un molestatore recidivo che è stato talmente sfacciato da inviare le foto del cadavere ai genitori della vittima. Ha inviato in tutto due foto, con tanto di messaggi inquietanti. È stato arrestato, accusato e poi condannato a morte. L'uomo ha lasciato questo mondo il 21 febbraio 2013, all'età di 44 anni. Ancora oggi la ferita di questa tragedia, nella città di Nara, rimane aperta e per i familiari lo sarà per sempre.